Sono Robi Borillo Boribello, il cantante dei Los Locos e sono incazzato come una iena con il Ministero degli Esteri italiano, quindi con la Farnesina e con il suo grande comandante in capo. Se da una parte sono molto contento perché finalmente dopo mille vicissitudini, dopo due mesi sono riuscito a tornare nella madrepatria Italia, dall'altra parte sono però molto incazzato e voglio togliermi alcuni sassolini dalle scarpe. Ma ricapitoliamo, cominciamo dall'inizio. Allora io sono partito i primi di marzo per andare in Messico per motivi di lavoro, dopo è successo quello che tutti sappiamo, ovviamente è scoppiata la pandemia a livello mondiale, è arrivato un po' in ritardo in Messico rispetto all'Italia ma è arrivata anche lì, tra l'altro adesso la situazione comincia ad essere sempre più drammatica perché quando sono partito addirittura avevano decretato il coprifuoco con i militari per le strade, multe, arresti eccetera, per cui la situazione era veramente diventata complicatissima. A me hanno cancellato Neos, ha cancellato il primo volo, ha cancellato il secondo volo che aveva riprogrammato, ha cancellato anche il terzo volo e a quel punto io mi sono decisamente preoccupato, ho detto in qualche maniera devo tornare. Ho mandato una lettera all'ambasciata italiana, anche al consolato di Playa del Carmen dove mi trovavo e ovviamente ho contattato, ho tentato di contattare anche la Farnesina per cui il Ministero degli Esteri Italiano. È passato qualche giorno, poi dopo qualche giorno è arrivata la prima risposta via mail, nella prima risposta hanno scritto beh, provi a controllare se online nei siti di ricerca dei voli c'è qualche volo. Ammazza che geni, ma sai, non ci avevo neanche pensato io. Cioè, andare a vedere su internet se c'erano dei voli, se non me lo dicevano loro, era una cosa incredibile. Mi pensate, vabbè. Dopo qualche giorno fortunatamente invece mi ha scritto il consolato, tra l'altro ironia del destino, il console di Playa del Carmen è un vicentino anche lui, ma risposto contemporaneamente anche l'ambasciata di Città del Messico, dove c'era scritto che stavano praticamente redigendo una lista di tutte le persone che si trovavano all'estero in quel momento e che avevano bisogno di rientrare, per cui devo dire il consolato ha fatto veramente un ottimo lavoro, ha raccolto tutta questa lista di persone che volano tornare. Dopo dieci giorni circa mi ha rimandato una lettera al consolato dicendo sì, c'è la disponibilità di un volo. Io ho detto, bello, avevo visto Di Maio che andava in televisione a dire che l'Alitalia finalmente aveva organizzato tutti questi voli per riportare a casa i poveri italiani che erano all'estero, ma arriva questa mail, volo blu panorama, per cui compagnia privata, fatta attraverso un'agenzia messicana con un costo di, in due persone, 2.600 euro. Allora, chiarisco che normalmente un volo charter tratta unica, Cancun, Milano, costa sui 350 euro. Qua invece 2.600 euro due persone, un costo veramente pazzesco. Allora dico, Alitalia, con un colpo di mano per la scusa del virus, è stata nazionalizzata, tra l'altro una società che aveva un buco più grande del buco dell'ozono, no, la prendiamo in carico noi italiani, perché noi siamo curvi, e prendiamo questa Alitalia anche per andare a cercare i nostri italiani poverini all'estero. Ma quando mai? Agenzia privata. Io adesso non me la prendo con blu panorama, perché ovviamente ha messo un costo molto più alto, perché tra l'altro ha dovuto seguire le nuove disposizioni, per cui c'è un posto di qua, un posto di là, eccetera, eccetera, per cui non posso certo dare la colpa a loro. Ma poi vengo a scoprire che l'Italia aderisce a un meccanismo di protezione civile a livello europeo, che praticamente, cioè noi paghiamo per questa protezione civile che si interessa proprio di riportare i connazionali in Europa. Bene, vado a leggermi tutte le statistiche di questa cosa, allora scopro che 237 voli sono stati organizzati da questa protezione civile europea. Sapete quanti voli italiani di questa situazione? Uno. Un solo volo su 237. La Germania ha fatto i 140, la Francia, l'Olanda, la Spagna, tutti gli altri hanno fatto voli che sono praticamente pagati per di 75% da questa situazione europea. Quindi noi perché non l'abbiamo fatto? Perché il nostro caro Giggino non ha fatto la richiesta. Non so, si sono dimenticati di farla probabilmente, incredibile. Ma io dico, nella mia stessa situazione ci sono migliaia di altri italiani e tra l'altro io, vabbè, in qualche maniera me la possono anche cavare, questi soldi, in qualche maniera li tiro fuori. Ma mi metto lì in panni di un povero, che so, ragazzo che era lì per fare il cuoco, l'animatore, il fotografo e che non c'ha tutti questi soldi per tornare, ma come diavolo fa? Tra l'altro ho degli amici addirittura che sono rimasti bloccati lì in Messico. In quel periodo in cui non c'erano voli gli è anche scaduto il visto turistico, per cui adesso rischiano addirittura multe salatissime, se non addirittura l'arresto. Ma stiamo scherzando? C'è un'amica che è a Zanzibar, all'Italia, per tornare, hanno organizzato un volo sempre della Farnesina, gli hanno chiesto 2800 dollari. Loro cosa hanno fatto? Si sono messi d'accordo fra un centinaio di italiani che erano lì e si sono organizzati un volo privato, cioè loro, spendendo un terzo di quello che gli faceva parlare all'Italia, cioè loro, da cittadini italiani, da solo privati, si sono organizzati questa cosa. Ma come siamo messi? Ma dov'è lo Stato? Questo Stato che addirittura paga i voli per i mafiosi che devono tornare a casa quando sono stati buttati fuori dalle carceri proprio in questi giorni, cioè gli hanno pagati i voli per tornare. Uno Stato che paga i voli agli immigrati clandestini per rimpatriarli e a noi italiani no. Ma io so che rimpatrio vuol dire appunto prendere gli italiani e riportarsi in patrio. Se no, se io pago quel biglietto lì a 2600 euro non è più un ripatrio, è un rientro. Per cui io veramente vorrei capire, ma come siamo messi in Italia? Cioè, Gicino, Giuseppi, ma come siamo messi? Ma io sono veramente scandalizzato, è decisamente una vergogna. Io adesso mi scuso con tutti per questa mia esternazione e capisco benissimo che i problemi degli italiani sono ben altri, il mio problema è una goccia in mezzo all'oceano di tutti i casini che sono successi per questo coronavirus, anzi, sono vicinissimo alle persone che hanno sofferto in questo periodo o che hanno perso un familiare dei cari, perché è una situazione veramente incredibile. Però avevo proprio voglia di fare questa esternazione. Io mi chiedo qual è il sondaggio che dice che il 50% degli italiani è a favore di questo governo. Io vorrei proprio vederli in faccia questo 50%. Ma com'è possibile? Viva Giuseppi, viva Gicino e viva l'Italia. Ci rivediamo, spero, presto, ma non prima di 15 giorni, perché adesso sono anch'io agli arresti domiciliari, perché essendo tornato all'estero devo fare 15 giorni chiuso in casa, ma ero già da due mesi chiuso in casa in Messico. Viva l'Italia! Ciao do Borillo.